sei stato via per due giorni senza nessuno a guardarti le spalle siamo una squadra tra noi non esistono segreti parli come mio padre da che parte stai da che parte non lo so e che significa stare dalla tua parte in questo momento come faccio a sapere che non fuggirai ad asgard se lo facessi almeno andrei dove posso fare qualcosa il tuo è un discorso folle il più folle che potessi fare perché odino poteva uccidermi e non l'ha fatto si è offerto di insegnarmi se avessi più risposte potrei impedire dire cosa di che farli non importa lascia perdere ok ma se è stato via per due giorni provaci tu a farlo ragionare io non ci riesco sei tornato ora vuoi rispondermi riguardo cosa dove sei andato chi hai visto odino cosa è questo che pensi vuoi negarlo rispondimi sei andato ad asgard no certo che no e anche se fosse è il mio futuro la mia vita tu sei mio figlio e perché non ti fidi di me se vuoi che mi fidi allora dimmi la verità la verità è che ti comporti da stronzo ragazzo non lo convincerai con questi modi non ha nessuna fiducia in me va bene se lui ha dei segreti anche la mamma non va bene i suoi segreti gravano su di noi ah è così non credi più nemmeno in lei ora non si tratta di tua madre tu non dici altro che bugie e chissà da chi ho imparato adesso basta da quando è che prendi sempre le sue difese da quando è l'unico a dire cose sensate senti stavo solo pensando di andare da udino ma era per una buona ragione non c'è nessuna ragione per andare da udino lui ti uffoscherebbe la mente ma l'avrei fatto per noi per impedire che capiti qualcosa di brutto qualcosa di brutto è già capitato guarda me o freya o tir è stato odino a farci questo che avete tutti quanti da sbraitare all'improvviso atreus vuole andare ad asgard asgard abbattuto la testa per caso bravi siete tutti contro di me ora tu devi scegliere chi vuoi essere uno che mente mi nasconde le cose o sei mio figlio scegliere io non ho mai potuto scegliere lasciami in pace ascolta lasciami andare ascolta lascia mio sento ma che cazzo atreus sono sindri cerca di mantenere il controllo forza ragazzo fantastico ragazzo 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 ragazzo